Ti porto solo io a Vittorio, a Vittorio, a Vittorio, a Vittorio, a Vittorio. Se sono fabbriche mie, ah io, vai, portate fuori, io appena arrivo a te la cascia, a me non è 10, non me la ero. Non so fino a che punto c'è con me, non ti ha portato la cascia a te. No, io, i casci non ce ne ho portato la cascia, ne io e ne ho già fabbriche, perché è solo io portare i casci. Vittorio non è una trota da Banna, vabbè? E' fatto a scherzo. Ah, ma sai che c'è un po' di scostetura questo? Perché, aspettami Cristiana, per farlo sono trattato a bolla, non è? Ma sai che andiamo a stanzione, non è la stanza, 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 non è la stanza. Che amma farete? Come? Vedi, dimmi lo dò, che amma farete? Amma a tramagare o ammalare, tu non va a dire. No, ma te la ghiaglia. E allora sei ammazzato la ghiaglia perché è il governo della battaglia. Vedete che caccia sogna io per venire nella caccia. Ma io non ho portato la battaglia. Allora, se come? Sta venendo le tia e tu ci dici 67 e più IVA. Che la caccia ne andiamo 65 perché non facciamo nudo. E già è la seconda volta. Di ventura è due. E allora, se tu pensi che muore, mamma mia, quindi tu stai sbagliando. No, 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 no. No, e allora tu vieni dalla caccia di cielo. Io prendo la caccia di cielo. E allora, io ti vieni da metto a guarda a viena io. O? E allora tu, a bittà non ci fai, ma non c'è quello. Perché se no, io la caccia di occhio, io sono rosetta. E allora, se devi sottofare, se no questa signora che ha passato, vieni ora ora, che ce l'ho sentito che c'è.